E torna là, la capolista torna là, la capolista torna là, la capolista torna là, e torna là. Fratelli Nerazzurri, amici di Facebook e Instagram, come si stragode, pocherissimo, pocherissimo all'Udinese di Zico, all'Udinese di Zico, ma come si gode. Ma i gufi come stanno? Stasera sai che mandria di gufi, dopo che quelli per l'ennesima volta vincono con mezzo, ti rimporta, stanno continuando così. Da questa parte si vede il gioco del calcio, quindi si ritorna meritatamente, strameritatamente, primi in classifica, e sopra quegli altri là, appunto, che Gatti è diventato il loro goledor. E poi quegli altri, capito, quelli, ho visto, uè, sbadigliatore, come stai? Sbadigliatore, ti piace tifare la Juve? Adesso ti fa la Juve, tipa. Adesso ti fa la Juve, come si gode, come si gode. Parla da solo ormai, parla da solo, ossessionato di merda. E si stragode, si stragode. Quindi, 4-0 all'Udinese, primo tempo presi a schiaffazzi, perché ha giocato solo l'Inter, una mezza occasione loro, un tiro, poi per il resto solo, solo ed esclusivamente Inter, la fame, la cattiveria, l'umiltà ragazzi, il sangue agli occhi e la fame. Abbiamo fatto la preghierina stamattina da San Pietro, da San Pietro a Milano e si stragode. Ci sono tutte le live reaction che sono arrivato dieci minuti prima dell'inizio della partita, quindi godetevele domani ragazzi. E quindi l'Inter che inizia subito, palo di Lautaro Martinez che voleva spaccarla oggi la porta, ma è servita la vestaglia e lo vedrete nelle live reaction. Palo di Lautaro, dopodiché si procura il rigore. Il rigore che c'è, perché il rigore c'è, perché comunque lo acchiappa. Poi magari non la prendeva, ma la palla era ancora disponibile, quindi quel rigore c'è. Soprattutto lo sbadigliatore e altri che dicono, il rigore, il rigore. Così, proprio, a go-go. Quindi il rigore che c'è e c'ha la ciala che piace, insomma, così, lui piace così. Palla da una parte e, insomma, era un cremona dei poveri dall'altra. 1-0. Dopodiché, cosa succede? Succede che Lautaro va a conquistarsi un pallone, ok? Perché hanno detto tutti, bravo ciala, no, bravo il cazzo, è stato bravo ciala, ciala, ma Lautaro va a recuperare quella palla. Che arriva Dimash e di sinistro, pem pem pem, nell'angolino. E sono due. Dopodiché il Tikus, il Tikus. Enesimo gol del Tikus, enesima prestazione. Ma di tutti, di tutti, qui a Tele Lombardia dovevano fare, volevano fare la colonna degli undici promossi. Una cosa mai successa. Primo tempo spettacolare. Tre peroni. Nel secondo tempo, a un certo punto, a un certo punto, un gioco gioco. L'Inter si presenta, l'Udinese prende l'Aulin. A fine primo tempo l'Udinese prende l'Aulin. Ma c'era poco poco Aulin e a un certo punto hanno dovuto dividerselo. Per quello ci hanno messo tanto a rientrare. Non ci hanno capito un cazzo. E il secondo tempo è ricominciato così. Con l'Inter un po' più tranquilla, con i cambi. Ogni tanto, tac, si provava. Belle azioni. Loro un paio di tiri. Una respinta brutta di Sommer. Di Sommer, ma gliela concediamo. Perché comunque ci ha salvato mille volte. E questo è il decimo clean sheet solo in campionato. Quindi va bene così. E dopo, insomma... Ah, scusate. Ben tornato Michi Tarian, ragazzi. Michi Tarian strepitoso. Partita sontuosa. Tutti bravi, ma Michi Michi finalmente è tornato. Il Toro. Il Toro aveva voglia di segnare. Ragazzi, c'è poco da fare. E quindi dopo altre palle dove ha provato, dove ha tirato e veniva respinto. Dove è deviato in calcio d'angolo. Decide di... Prima di quell'azione il Toro era fare il terzino. A destra, ok? Dopo un minuto è andato a recuperarsi una palla che aveva perso lui. Se la recupera, se ne va. E la mette lì. Dove era l'Ucremona. Dei poveri non ci potrà mai arrivare. Quindi... Cos'è dire di questa Inter? Un caterpillar, eh? Un caterpillar. Questo è giocare a calcio. Questo è avere la fame. Sempre. Col sangue agli occhi. E dare sempre tutto in campo. E questa è la cavalcata che deve fare l'Inter. Adelante Inter. Avanti così verso il sogno. E la capolista torna là. Io per il momento canto questa. Perché vorrei anche capire quando giocheremo noi prima di quegli altri. Perché ancora stasettimana giocheranno prima loro. Sono quattro partite che giocano prima loro. Quando è che si inverte? No, perché qualcuno rompeva le palle per... Il calendario, il calendario. E la marotta League. Voglio vedere quando succederà l'inverso. Detto questo, ragazzi. Condivisione dei video. Iscrizione al canale. Sempre Forza Inter. Attivate la campanella. Si stragode. Goofy a nanna. Goofy a primo tempo erano già a nanna. Tutti in depressione. E si gode. Milanelli, che ormai sono cugini. Si amano. Come sempre, insomma, no? E i gobbacci. Quindi tutti a nanna e domani vi cucate le live reaction. Ciao!